Noi rivendichiamo il diritto a vivere con dignità, a non essere esporsi, a non essere perseguitati, a non essere arrestati ingiustamente, a non essere uccisi a causa del nostro status o perché difendiamo i nostri diritti. Siamo cittadini del mondo. Vogliamo circolare liberamente. Un altro mondo è possibile. Vogliamo un nuovo ordine sociale. No allo sfruttamento della forza lavoro. Fisica ed intellettuale dei migranti. Noi non siamo un problema. Noi siamo una risorsa. Sì alleanza di migranti. No alla strumentalizzazione dei media. Lavoriamo per un'informazione corretta. No alla violenza come donna e come migrante. Sì all'immigrazione in quanto contributo. Economico, sociale, culturale. Valori inestimabili. Sì all'Italia multiculturale. Sì. 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 Sì all'Italia multiculturale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.